sono le 7 di lunedì 4 luglio 2022 iniziamo la settimana insieme con la rassegna stampa su fan tv leggeremo come sempre la sintesi delle pubblicazioni dei quotidiani del carlino e del corriere adriatico i giornali che riassumano un po le vicende locali le vicende a carattere regionale vedremo come oggi la cronaca la fa da padrone ma ci sono anche tante feste che nel weekend si sono celebrate si sono consumate hanno un po rallegrato questo periodo di caldo intenso e poi il caldo sarà un altro argomento che campeggerà che campeggia anzi sui giornali questa mattina abbiamo detto lunedì 4 luglio 2022 vediamo subito l'almanacco del giorno ed ecco vediamo come il sole salza alle 5 anzi si è alzato alle 5 31 e tramonterà oggi alle 20 e 54 il santo del giorno e santa elisabetta noi conosciamo due elisabete che la chiesa onora sugli altari la prima è santa elisabetta di ungheria la seconda è santa elisabetta del portogallo e proprio questa santa si festeggia oggi fu figlia di regnanti era una principessa santa elisabetta suo padre era pietro terzo re d'aragona sua madre costanza figlia di manfredi re di sicilia lei fu sposa dionigi re del portogallo quindi vedete l'ambiente in cui crebbe questa giovane condusse comunque una vita di preghiera e di carità al contrario di quella del marito di dionigi che era di costumi depravati elisabetta cercò di convertire il marito ma per tutta risposta fu allontanata dalla corte e fu relegata nella città di alanker finché poi non fu riabilitata perché invece di insorgere contro il marito magari c'era anche l'accusa che il figlio il figlio contrastasse appunto il padre fu riconosciuta innocente quindi riabilitata riammessa a corte e fu canonizzata dopo una vita santa di preghiera appunto di opere di bene fu canonizzata da papa urbano ottavo santa elisabetta del portogallo detto questo vediamo subito le previsioni del tempo insomma ormai sono le stesse che si propagano da diversi giorni vediamo come il cielo si mantiene terzo su tutte le province marchigiane caldo caldo intenso punte massime fino a 36 38 gradi abbiamo anche nell'entroterra punte molto elevate anzi forse più nell'entroterra che sulla costa dove il vento al mattino specialmente procura un po' di sollievo la ventilazione comunque è debole e sulle coste il vento spirerà debole da nord nord est mentre sull'entroterra da est nord est e allora diamo un'occhiata subito alle prime pagine dei giornali abbiamo qui davanti a noi il resto del carlino pagina delle marche oggi lunedì quindi il giornale condensa condensa un po' le notizie delle quattro delle cinque province marchigiane marche vediamo subito i titoli che riguardano la provincia di pesaro tagliatelle padre pio ebbene sono le cause diciamo così le origini di una longevità veramente eccezionale abbiamo il record della signora più anziana d'italia si tratta di una nonnina che compie 112 anni la più anziana d'italia vive con la figlia 86enne e non prende nessuna medicina pensate che bello è bello invecchiare in buona salute ogni giorno segue la messa sul canale dei padre pio da pietralcina e forse anche questa è una medicina che corrobora la salute a pesaro poi si è celebrata la festa del porto una ricorrenza che ha fatto il pieno di gente dopo tutto quello che è successo durante la pandemia e quindi la festa non si è potuta organizzare mentre a fano l'occhio della della cronaca viene puntato sulla mensa di san paterniano sempre più poveri in mensa oltre 200 pasti ogni giorno in passato erano un'ottantina pensate quanti sono cresciuti e quante sono cresciute le persone che affluiscono a questo punto di assistenza a questo punto di ricovero e poi spaziamo l'orizzonte nelle altre province marchigiane vediamo che in ancona tamberi licenza il padre allenatore il campione di atletica licenza il padre con il quale pure aveva avuto dei sostegni importanti per quanto riguarda i mondiali ebbene ci sono diversità di vedute e poi anumana un malore in spiaggia i medici calano dall'elicottero e salvano una ragazza vedrà vedremo come perché è sempre in ancona una donna di 78 anni si trova faccia a faccia con i ladri dentro casa il bottino comunque ingente 10.000 euro un rolex prezioso portato via ascoli fermo agguato a sciocche lungo il litorale un turista di 16 anni pestato dal branco a monte granaro una rapina lampo nel negozio poi la fuga in scooter mentre ad acquata del torno infarto alla guida l'auto finisce in una scarpata muore un ex alpino di 72 anni ed infine a grotta mare trovato il corpo senza vita di orazio aleo era scomparso da cinque giorni apriamo il giornale vediamo subito la festa del porto di pesaro la rinascita dice il giornale e tra le onde barche finalmente a largo dopo appunto che per due anni la festa non si è potuta organizzare a causa della pandemia per deporre le corone in ricordo dei caduti di chi ha perso la vita con il suo lavoro tra le onde anche a fiorenzuola appunto un'altra corona sono diverse le corone che sono state gettate per ricordare diversi episodi che si sono verificate nelle acque antistanti pesaro prima uscita del vescovo del nuovo vescovo anzi dell'arcivescovo il grazie poi dei parrici ha partecipato infatti per la prima volta alla festa del porto il nuovo arcivescovo sandro salvucci che nell'omelia pensate ha detto così sono lieto di celebrare la festa della madonna del porto la madonna della scala infatti viene così raffigurata nella chiesa del porto dopo tanti anni in collina fin dai primi giorni a pesaro ho assaporato il fascino della camminata mattutina lungo la riva del mare nell'ora in cui la città si sveglia e i pescherici fanno lentamente il loro rientro nel porto un'immagine molto bella questa che molti pesaresi fanesi tutti coloro che vivono nella costa possono assaborare svegliandosi presto al mattino quindi l'importante l'uscita in mare con la queen elisabeth con a bordo tante autorità dietro numerose imbarcazioni sono state dicevo deposte anche corone di alloro in onore dei caduti in mare una all'altezza della spiaggia centrale di pesaro l'altra all'altezza della croce di monte castellaro prima delle acque prospicenti di fiorenzuola di focara dove annegarono purtroppo nel giugno di vent'anni fa due bambini ed una accompagnatrice di urbino una di quelle disgrazie che veramente hanno colpito il cuore dei pesaresi perché quando muore un bambino se ne va tanta tanta vita che doveva ancora svilupparsi e poi il giornale parla del cater raduno questa trasmissione che furoreggia tra nella negli ascolti radiofonici salutata in bicicletta e il morselli risorge con il murales cater raduno dunque arrivederci dopo una bella esperienza compiuta a pesaro la tre giorni in città della kermesse legata alla celeberrima trasmissione di radio 2 chiude con il botto dopo aver fatto il pieno di una serie di manifestazioni tra cui anche questa bella pedalata che è stata organizzata dai conduttori di caterpillar massimo cirri e sara zambotti una pedalata a cui hanno partecipato tanti tanti pesaresi e la carovana si è diretta in via 11 febbraio per raggiungere poi la seconda tappa del percorso alle liceo morselli dove è stato svelato inaugurato un grande murales di 10 metri per 8 che colora la facciata laterale dell'edificio una bella una bella iniziativa e la vediamo qui in questa notte in questa fotografia che correda appunto l'articolo e poi qua abbiamo mezza pagina dedicata a nonna nina 112 candeline record d'italia è la più anziana del nostro paese vive a pesaro insieme alla figlia che già 86 anni mangia tagliatelle non prende medicine e guarda padre pio in tv ebbene non passa giorno che non segua la messa tramite la tv che viene celebrata nella chiesa di padre pio a porto rotondo insomma una devozione che corrobora il fisico e la mente ultima di cinque figli sono quasi tutti vissuti oltre i 90 anni i figli di questa signora lei sempre casalinga comunque compiuto una compiuto sta compiendo una vita ancora molto sana e ancora molto improntata alla semplicità dell'esistenza di tutti i giorni e qui vediamo la pagina di fano san paterniano scoppia ristoratori in soccorso la mensa assaltata dai poveri oltre 200 i pasti al giorno e ci sono mobilitati locali ristoranti i quali ogni giorno forniscono tutto ciò che avanza dalla loro ristorazione si chiede soltanto di avere a disposizione dei contenitori per fornire ciò che serve la mensa di san paterniano un'istituzione ormai che da lunghi che da lungo tempo da tanti anni fornisce assistenza ai poveri della nostra della nostra città di fano sono poveri generalmente che vengono da fuori si devono integrare nella nostra città ma in questi ultimi tempi sono sempre più anche i fanesi che hanno bisogno di soccorso che hanno bisogno di assistenza e devo dire che per quanto riguarda la mensa di san paterniano i contributi non mancano e questo fa bene alla città ma ce ne vorrebbero sempre molti di più veniamo ora le altre notizie a sant'angelo invado un bosco va a fuoco interviene anche l'elicottero l'incendio forse è partito da una carbonaia in disuso interessata una zona impervia si tratta di la località graticcioli tra sant'angelo invado e mercatello sul metauro le fiamme sono divampate in un punto altamente impervio e i vigili del fuoco intervenuti da macerata feltre ai dacagli hanno immediatamente capito che non ci si poteva avvicinare con le autobotti e quindi è dovuto intervenire l'elicottero per cercare di spegnere l'incendio cosa che poi è avvenuta e qua un altro incendio ha scatenato le fiamme per quanto riguarda un appartamento un appartamento che è stato danneggiato soprattutto dal fumo devo dire le fiamme sono originate da un carica batteria di una bici elettrica dove appunto una scintilla è fuori uscita e le fiamme poi sono divampate sono state chiamati i vicini i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno rapidamente spento le fiamme però dicevo queste hanno provocato molti danni per il fumo all'appartamento nulla da celebrare i sindacati di polizia penitenziaria saltano la festa oggi si dovrebbe tenere la cerimonia della celebrazione del 205esimo anniversario della nascita del corpo di polizia penitenziaria ebbene ebbene c'è un senso di rivolta di malcontento all'interno di villa fastigi dove le guardie carcerarie sono sottoposte a uno stress non dico come quello dei detenuti per carità insomma i ruoli sono molto diversi ma però il malcontento c'è e il disagio ce n'è tantissimo anche da parte delle guardie carcerarie in segno di protesta per le condizioni lavorative in cui sono costretti appunti ad operare per i poliziotti e negli ultimi tempi hanno disertato la festa non ci saremo hanno detto perché come purtroppo diciamo da alcuni anni per la polizia penitenziaria non c'è nulla da festeggiare la situazione degli istituti penitenziari della regione non solo a pesaro e a livelli allarmanti e noi non comprendiamo perché durante la nostra festa si prediliga la disamina sulla realtà delle carceri e sulle possibili riforme di intervento piuttosto che valorizzare il ruolo di un corpo di polizia che è sotto stress sotto esame tutti tutti i giorni ed ora diamo un'occhiata invece al corriere adriatico il corriere adriatico in prima pagina richiama la festa del porto di pesaro dopo due anni di stop l'arcivescovo celebra messa e coinvolge la città il luogo dell'accoglienza questo è il simbolo del porto il comitato organizzatore sottolinea però le difficoltà per il commercio il turismo e l'impasse dell'ex consorzio sappiamo come il porto è il luogo anche del lavoro e ci sono delle categorie come i pescatori abbiamo visto anche fanno come ha reagito che in questo momento sono in crisi e non riescono più a soperire le spese del gasolio che sono lievitate alquanto in questi ultimi tempi tanto da non creare più un minimo di ricompensa per il lavoro effettuato e poi il porto dovrebbe associare oltre alla funzione lavorativa alla funzione industriale anche quella turistica e quindi vuole una sua immagine un suo decoro una sua suggestione sono aspetti che devono essere esaminati e veramente diciamo così è veramente essere portati all'attenzione di chi può decidere la fotonotizia la fotonotizia dedicata al paglio delle contrade ovvero alla rievocazione dell'affanno malatestiana la rievocazione dello sfarzo dei malatesti e corteo per pandolfo e paola bianca si è ricordato sabato scorso questo matrimonio celebrato con grande sfarzo affanno tra pandolfo terzo e paola bianca anch'essa della famiglia malatesti era cugina di pandolfo terzo era già andata sposa ad un ordelaffi il quale poi era morto e quindi pandolfo terzo se ne era innamorato e se ne era sposata fu la prima moglie di pandolfo terzo malatesta e il suo corpo riposava nella tomba sormontata da una bella immagine scolpita sopra appunto il coperchio del sarcofogo che si trova nel portico della chiesa di san francesco una bellissima immagine che vede un volto stupendo rievocato dallo scultore che sintesizza lo splendore il fasto della corte dei malatesti all'epoca e vediamo come la pandolfaccia ha rievocato in maniera molto rigorosa il cerimonia la cerimonia che si è svolta nel sagrato del duomo di fano e qui vediamo una bella immagine pesaro creare nuovi invasi non è competenza dei singoli comuni un articolo di silvia sinibaldi che coglie il senso della crisi idrica che in questo momento invade il nostro territorio a pergola la visita del ministro che ammira i bronzi dorati al termine del tour a pesaro poi ancora pista polivalente campo sportivo il quartiere dice di sì per quanto riguarda ancona e per quanto riguarda anche tutte le marche vediamo che i contagi aumentano ma non derivano dalla calca che c'è stata nel concerto di vasco rossi contagi su fa più danni omicron 5 che vasco rossi e poi un articolo che viene richiamato a fondo pagina è quello che riguarda i carri allegorici in viale adriatico a sassonia oggetto di protesta da parte degli operatori sui quali interviene un candidato alla presidenza del nuovo consiglio della carnevalesca ovvero fabio barnesi il quale dice che il carnevale estivo è da ripensare e da ristrutturare no ai carri fermi immobili sui viali di sassonia occorre vivacità movimento allegria che sono le caratteristiche principali del carnevale vediamo ora la pagina di pesaro del corriere adriatico sono due pagine dedicate alla festa del porto il porto è un abbraccio così l'arcivescovo esalta la festa del mare e di eroi ha detto così li ha definiti coloro che vivono che loro che lottano contro il mare che vivono della pesca che vivono del loro lavoro l'evento più amato della città è tornato grandissima la partecipazione e poi i fuochi questo spettacolo pirotecnico che tradizionalmente conclude questa festa molto amata dai pesaresi noi qui abbiamo bisogno di flessibilità e di buonsenso attività ex consorzio e dragaggio castellani da sempre da settembre si riparte ha dichiarato nel prossimo autunno sarà decisivo per sbloccare alcune delle opere infrastrutturali necessarie all'attività portuale di pesaro per progettare gli invasi occorre una regia oltre i singoli comuni e il titolo che appare in un articolo appunto scritto da Silvia Sinibaldi l'UNICEM che sarebbe un po' l'unione dei comuni delle unioni montane l'UNICEM rivendica il ruolo delle aree montane nella gestione delle risorse idriche risorse idriche che si trovano principalmente nelle zone collinari nell'entroterra e quindi anche queste comunità che si trovano appunto in loco devono dire la loro perché poi è una risorsa che a loro appartiene una risorsa ovviamente a disposizione di tutto il territorio di tutta la provincia crisi idrica come risparmiare applicare il frangiflutto ai rubinetti la doccia è una delle avvertenze che dovrebbe essere rispettata applicata da tutti nelle proprie case chiudere rubinetto quando non serve non lasciare scorrere l'acqua utilizzare la doccia e non fare il bagno che consuma più acqua lavatrice lavastoviglie sempre a pieno carico con un ciclo economico non lavare in lavatrice soltanto un tovagliolo oppure un asciugamano ma riempire tutto il carrello perché poi il consumo di energia è lo stesso e poi annaffiare la sera non farlo durante il giorno l'acqua evapora in quantità inferiore e la terra la trattiene di più dunque avvertenze importanti per contribuire al risparmio idrico in un clima di siccità pista polivalente campo sportivo dal quartiere il via libera al recupero la richiesta sarà presentata al comune per inserire gli interventi nel bando sport e periferie ebbene l'assemblea dell'ottavo quartiere di pesaro ha recepito positivamente la richiesta che è stata presentata dal consigliere di azione massimo ciabocchi per sottoporre alla giunta la riqualificazione della pista polivalente del campo sportivo di pozzo alto allo scopo di creare un campo di calcio a otto così è la richiesta con relativi spegletoi e illuminazione una struttura sportiva che potrebbe essere recepita dall'amministrazione comunale ancora gare sportive ma sono gare sportive amatoriali rossini raffaello il debutto fa centro splendida sfida tra 130 giovani ciclisti sul primo gradino del podio laziale emmanuele rocchi della squadra il pirata official team ebbene sono 130 giovani e gli allievi che hanno preso parte ieri al rossini raffaello provenienti da tante regioni italiane insomma un po da tutta da tutta l'alta italia ma anche dal centro e dal sud una bella gara che ha dato ancora più vita e più allegria diciamo così alla giornata domenicale vediamo anche la pagina di urbino dove il fascino poliedrico del teatro per sette giorni anima il palco della città stasera il primo spettacolo di uto la quinta edizione onora eugenio allegri e poi si assegna il premio monia andreani il comitato unico di garanzia alle 17.30 di oggi presenterà le due tesi vincitrici si svolgerà la cerimonia di assegnazione del premio del comitato unico di garanzia monia andreani riservato a tesi di laurea magistrale discusse all'università di urbino e destinate a valorizzare gli studi relativi agli ambiti di azione del comitato unico di garanzia cioè quello delle pari opportunità e la filosofa monia andreani è stato un caposaldo di questo comitato vediamo anche qualche notizia di sport vediamo che la visse e la visse sulle dolomiti ritiro di lusso con un centro super attrezzato mercato occhi su sulle amanne yellow vediamo qui la foto di questo giocatore e il clima salubre il clima più fresco delle dolomiti sarà senz'altro un'iniezione corroborante per la squadra pesarese a Fano è in arrivo il presidente il patron russo il numero uno potrebbe dare una svolta al mercato granata attualmente fermo solo al rinnovo di capitano Antonio Broso per la verità c'è anche un altro giocatore con un contratto biennale si tratta infatti dell'esterno offensivo Antonio Variale e anche qui le trattative con il 23enne attaccante napoletano potrebbero chiudersi a breve con un risultato positivo insomma è il calcio a mercato che si anima in vista del prossimo campionato e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 su Occhio alla Notizia su Fano TV grazie per l'ascolto, a risentirci Grazie a tutti